ciao buongiorno mi faresti un caffè per favore certo subito quando ti senti addormentato fatti un sorso di caffè nulla facente o straimpegnato è molto meglio di un frappè buongiorno signori sono tornato a farmi un goccio di caffè compagna di viaggio cerco un villaggio ma prima facciamo il te sempre di corsa tutto l'anno tra infinite difficoltà giro vagando tra i due fronti percependo la verità quando ti senti blocco dentro non esitare prova a respirare quando senti il cedimento visiona una parte e vedrai l'uscita davanti a te quando ti senti affaticato fatti un goccio di caffè triste felice o folgorato ci sta sempre anche in tre non berne tanto non abusarne rischi di non invecchiare ma quando ti senti devastato fatti un bel sorso di caffè che ti senti affacciare che ti tira su che ti tira su che ti tira su che ti tira su sesso senza sentimento è come marare mettendoci il latte amaro e a fuoco lento è come mi piace e dunque sono contento e dunque sono contento e dunque sono contento prego lei il caffè signorina ah era ora grazie 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 grazie